un minuto compadre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo dal giardino dei frati qui oggi per raccontarvi la storia di ciro ciro che ci scrive da siracusa e ci racconta un po la sua storia soprattutto la storia delle nonne sua nonna paterna anna nel 98 li viene diagnosticato un tumore un tumore alla mammella sinistra nel settembre dello stesso anno subisce un'operazione a catania e di quell'operazione non si ricordava tanto lei racconta soltanto che per tutto il tempo dell'intervento in quella sala operatoria gli è comparso padre pio che l'è stata l'estate vicina e l'ha sorvegliata mia nonna scrive ciro non conosceva la figura di padre pio ma dopo l'operazione si era molto attaccata a lui fino a tanto da da tenere proprio in casa una piccola statua di padre pio e un quadro accanto al suo letto aveva un grande desiderio quello di andare a ringraziare padre pio di venire qui a san giovanni rotondo purtroppo scrive ciro questo desiderio non si è esaudito perché il tumore è diventato più grande ha toccato altri organi il pancreas così poi non c'è più stato nulla da fare e nel 2016 la nonna ha lasciato la sua famiglia a 68 anni e ciro racconta che la nonna gli prometteva sempre che un giorno insieme dovevano venire qui a san giovanni rotondo e dopo la sua morte scrive ciro nel 2019 decisi di fare una cosa ecco andare a san giovanni rotondo per ringraziare padre pio al posto di mia nonna lasciargli una fotografia nella cella nella cella numero uno la cosa bella che ci racconta ciro che quel giorno sogno la nonna la nonna con un sorriso splendente molto contenta in realtà felice ecco dell'azione che aveva compiuto il nipote e qualche settimana dopo sogno anche lo stesso padre pio infatti stava uscendo di casa fuori al portone proprio di fronte al suo portone vede sulla panchina seduto padre pio con un altro frate un sogno strano però lo vede molto sorridente soprattutto sorpreso da questo sorriso e questo sguardo compiaciuto dopo essere tornato da san giovanni rotondo però accade qualcos'altro forse era un segnale quello di padre pio perché l'altra nonna si ammala pregava ogni sera padre pio per la sua guarigione chiedevo anche a mia nonna di pregarlo ma a differenza dell'altra nonna lei non ne voleva sapere proprio nulla di padre pio perché diceva appunto e raccontava che una sua zia nel 96 era stata qui a san giovanni rotondo per strappare una grazia alla madonna l'intercessione di padre pio ma nulla non era accaduto nulla l'anzia era deceduta però ciro continua a pregare e chiedere una grazia per la nonna ma non c'era nulla da fare la nonna prima di morire gli confidò una cosa cioè che qualche giorno prima di morire gli disse ciro stanotte ho sognato padre pio che mi dava in mano due nastri rossi e appena cercai di prenderli lui scomparve e racconta ciro che quel giorno quando gli ha raccontato questo episodio la nonna era veramente contenta come se prima di lasciare questo mondo avesse recuperato quel grande desiderio di pregare e soprattutto la fede che man mano e attraverso quell'episodio drammatico della sua vita aveva perso ecco questo è anche uno dei grandi miracoli di padre pio non solo di guarigione fisica ecco in questo caso non è avvenuta ma comunque c'è stata una guarigione di spirito di questa donna prima di salire al cielo grazie a tutti Grazie a tutti.